Come sempre mi verrebbe da dire Presidente un rapporto a luci ed ombre, le ombre sono quelle che speriamo ci lasciamo alle spalle con comunque due anni di pandemia ma che devono essere colmate dalle associazioni MCL e Dacli soprattutto sul fronte del sociale, quindi anche di una coesione sociale, arrivano degli allarmi importanti. Sì, ovviamente l'economia non è mai distaccata da quello che poi è una vita comunitaria nel quale ovviamente poi le ricadute sociali sono assolutamente prioritarie, importanti, quelle che si vivono forse tutti di più e quindi è ovvio che siamo assolutamente attenti a questo e ci è sembrato utile oggi presentare anche questo aspetto. Certo è che noi siamo ovviamente più legati a una visione e quello è il nostro dovere, diciamo dare una lettura dei dati economici che ci servono innanzitutto per confermare se ma ce ne fosse bisogno il buio del 2020 che abbiamo forse non completamente superato ma insomma con dati almeno quelli economici che ci dicono e ci raccontano un 2021 che è assolutamente più, non dico positivo e rosio ma sicuramente più confortante. Abbiamo delle crescite significative, abbiamo delle prospettive almeno nel breve periodo di crescita assolutamente confermate. Certo è che ci dovremo confrontare come ho detto con l'aumento delle materie prime, la carenza delle materie prime stesse, quindi difficile reperibilità, costi energetici che sono ovviamente qui anche in salita e soprattutto ovviamente ci dovremo confrontare sempre legandoci poi a quell'aspetto anche di comunità e di socialità a quella che è il bisogno poi di trovare quegli skill e quelle professionalità perché le imprese già denunciano una carenza ma che poi si significheranno ancora più determinanti per il prossimo futuro. Quindi un impegno anche nella programmazione dell'orientamento al lavoro e quindi nella scelta da parte dei ragazzi non sono a caso qui presenti le scuole perché proprio l'impegno anche della Camera va anche in quella direzione cercare di essere assolutamente in linea e di essere collaborativi al massimo attraverso di noi di far collaborare il mondo dell'impresa e il mondo dell'economia con il mondo appunto della scuola che ovviamente quando fa formazione sa di doverlo programmare su una tempistica che non è quella delle imprese le imprese hanno bisogno oggi di figure e la formazione ovviamente ha bisogno di tempo perché si possa realizzare.